In Giappone, a circa 200 miglia da Tokyo, c'è il più raffinato allevamento di bestiame del mondo. Qui per 8 ore al giorno i vitelli sono affidati ad esperti massaggiatori che hanno il compito di intenerirne le carni. Inoltre, a ogni vitello, a tutti i vitelli sono affidati ad esperti massaggiatori. A ogni vitello vengono somministrati ogni giorno 6 litri di birra per aiutare il processo di ingrassamento. La birra è somministrata agli animali direttamente dalle bottiglie per evitare che il liquido perda il suo potere dilatante. Le bistecche di questi vitelli vanno tutte a finire in tre o quattro ristoranti specializzati di Tokyo e di New York. Il loro costo corrisponde a circa 7000 lire al chilo. Il loro costo corrisponde in tre o quattro ristoranti specializzati di Tokyo e di New York.